I carabinieri del Comando Compagnia di Reggio Calabria, supportati dal personale qualificato artificiale del Comando Provinciale, hanno proceduto al sequestro di oltre una tonnellata di materiale pirico, misto a artifici e ordigni realizzati artigianalmente. I controlli dei carabinieri si intensificheranno in occasione delle prossime festività natalizie a tutela dell'incolumità di adulti e bambini.